Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove ci sono 4 km di coda per il ripristino di un incidente tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Per la viabilità cittadina Firenze in Viale Amendola fino all'11 febbraio transito e sosta nel controviale tra Viaggiotto e il numero civico 48 interrotti all'altezza di un cantiere. Infine per i treni fino al 10 giugno per lavori sulla linea da Siena-Grosseto il servizio da Buon Convento-Grosseto permane sostituito con bus. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!